Ciao ragazzi per la serie le chiacchierate della colazione oggi voglio parlarvi di come ci possiamo proteggere dal freddo quando facciamo i nostri pernottamenti all'aperto che ora di colazione lo si evince dal fatto che non mi so manco lavato la faccia però purtroppo io sono così la mattina quando mi sveglio devo immediatamente passare all'azione siamo in inverno, al momento fa molto freddo ma in montagna fa freddo anche l'estate quindi direi che è un argomento sempre attuale per parlare di questa roba ci vuole un po' di scienza voi sapete che io ho domatto per la scienza nonostante questo cercherò di semplificare di non rendere il discorso troppo noioso sperando di lasciarvi qualche spunto di riflessione utile come in ogni video in cui parlo di argomenti tecnici voglio precisare che io non sono né un guru né un luminare né tantomeno un esperto sono solo uno a cui piace stare fuori e che lo fa da tanto tempo quindi tutto quello che dirò sono mie considerazioni personali da non prendere per oro colato quella del pernottamento all'aperto è una situazione che mi è capitato di vivere parecchie volte negli anni 20 anni fa quando ho cominciato a dormire fuori quando ho cominciato per la prima volta a dormire fuori non c'erano le attrezzature che abbiamo a disposizione oggi oltretutto quando ero negli scout dovevo accontentarmi sempre di roba di seconda mano molto spesso adatta al campeggio estivo dormire caldi la notte era un'impresa e gli zai ripesavano comunque un colpo oggi abbiamo a disposizione prodotti all'avanguardia e riuscire a riposare bene la notte dovrebbe essere un gioco da ragazzi non è sempre così almeno per me nonostante l'equipaggiamento e gli anni di esperienza mi è capitato e mi capita tuttora di sentire freddo la notte questo succede perché è del corpo umano che stiamo parlando e della percezione del caldo e del freddo un qualcosa di estremamente complesso e dipendente da una miriade di fattori sia interni che esterni al corpo per imparare a proteggersi dal freddo durante un pernotto secondo me ci vuole tempo, pratica e qualche nozione e non necessariamente il problema si risolve acquistando il top di gamma ora per fare pratica non è necessario andare chissà dove basta il giardino di casa vostra una situazione a bassissimo rischio dove potete facilmente correggere il tiro se qualcosa non torna bene qui con me ho un po' di materiale tecnico che sicuramente vi risulterà familiare ho due tipologie di materassino una tenda una coperta di lana e un sacco a pelo ora voglio spiegarvi quali sono i meccanismi attraverso i quali il nostro corpo perde calore e come possiamo utilizzare tutti questi oggetti a nostro vantaggio per tenercelo stretto questo calore perché parlo di protezione dal freddo nello specifico caso del pernotto ricordiamoci che per stare caldo posso fare tre cose mi copro mangio qualcosa faccio del movimento mentre dormo posso solo coprirmi quindi è durante la notte che sono più vulnerabile alle basse temperature il corpo umano è caldo perché all'interno di esso hanno luogo tutta una serie di reazioni che servono a farlo funzionare e che hanno come risultato la produzione di calore quindi in parole povere produciamo costantemente quei famosi 36 gradi di temperatura che sono quelli giusti quelli ai quali funziona tutto correttamente se il nostro corpo perde calore in maniera importante la temperatura interna cala e lì cominciano i guai come vedete abbiamo a che fare con due grandezze fisiche differenti il calore e la temperatura il calore è una modalità con cui l'energia si trasferisce la temperatura è quella grandezza che può farci rendere conto se c'è effettivamente in atto uno scambio di calore infatti se diminuisce significa che il corpo sta buttando via calore se aumenta significa che lo sta ricevendo la scienza che studia questi fenomeni si chiama termodinamica e uno dei principi fondamentali su cui si basa è il seguente che sto per dirvi se io prendo due corpi aventi diverse temperature e li metto a contatto immediatamente inizierà un passaggio di calore dal corpo più caldo al corpo più freddo l'effetto che ne risulta è il livellamento delle temperature infatti il corpo più freddo che riceve calore aumenta la sua temperatura il corpo più caldo che si raffredda diminuisce la sua temperatura lo scambio di calore cessa nel momento in cui i due corpi arrivano ad avere la stessa temperatura quello che all'apparenza sembra un concetto di difficile comprensione in realtà descrive una situazione a noi molto familiare ossia la situazione in cui ci troviamo all'aperto per un'escursione e la sera andiamo a sdraiarci sul terreno per dormire quando io essere umano caldo mi metto a contatto col terreno immediatamente si innesca un flusso di calore da me verso il terreno quindi in pratica sto regalando alla terra che peraltro non ne ha alcun bisogno tutto il mio prezioso calore corporeo a quel punto inizio a sentire freddo e nella migliore delle ipotesi dormo da schifo la situazione si complica ulteriormente se si mette a tirare vento infatti a quel punto non perdo più solo calore tramite il contatto col terreno ma anche a causa del vento che mi sferza quindi attraverso un'altra modalità che si chiama convezione forzata avete presente quando soffiate sulla zuppa? se poi si mette pure a piovere sono finito perché a quel punto mi bagno e perdo calore ancora più rapidamente sapete che l'acqua evaporando dalla superficie del corpo si porta via del calore questi che vi ho descritto sommariamente sono i meccanismi attraverso i quali il nostro corpo perde calore quando ci troviamo all'aperto conduzione convezione forzata evaporazione quali sono gli strumenti con i quali possiamo contrastare questi fenomeni? sono quelli che ho qui con me e che vi ho fatto vedere prima se dispongo di una tenda ad esempio sono a cavallo perché la tenda è in grado di ripararmi sia dal vento sia dalla pioggia ovviamente se montata nel modo e nel posto giusto l'unica cosa che la tenda non può fare è isolarci adeguatamente dal terreno sì è vero che ha un pavimento ma questo pavimento è semplicemente un sottile strato di poliestere, di nylon che non ha le caratteristiche idonee per poter garantire un buon isolamento vediamo allora un attimo in cosa consiste l'isolamento abbiamo detto che se io mi sdraio su una superficie che è più fredda di me in questo caso il suolo immediatamente si innesca un passaggio di calore da me verso il suolo isolarsi significa semplicemente frapporre fra me e il suolo uno strato di materiale che sia in grado di bloccare o quantomeno di limitare questo passaggio di calore un materiale in grado di fare una cosa simile si chiama appunto isolante e la sua peculiarità è quella di condurre male il calore mi sembrerà assurdo ma l'aria è un ottimo isolante perché ha una conducibilità termica bassissima questo a patto che rimanga ferma perché se l'aria si muove si innesca il fenomeno della convezione forzata che abbiamo visto prima il tizio che soffia sulla minestrina questo materassino è come una spugna ha al suo interno tante piccolissime cavità che intrappolano l'aria e la tengono ferma questo pezzo di plastica porosa che costa pochissimo è in realtà un validissimo ausilio per dormire caldi la notte poi se voglio stare più comodo magari prendo un autoconfiante ma a livello di isolamento questo qui va già benissimo quindi ora che abbiamo capito che la chiave dell'isolamento è la capacità di intrappolare aria sicuramente ci sarà più facile capire come mai per realizzare indumenti sacchi a pelo si utilizzino materiali come la lana o la piuma d'oca sono materiali che per loro natura hanno un'incredibile capacità di trattenere aria disponendo quindi di una tenda di un materassino per isolarmi adeguatamente dal terreno e di un sacco a pelo sufficientemente pesante posso pensare di passare la notte fuori comodamente e senza rischi e se non ho a disposizione tutto questo equipaggiamento come faccio? lasciatemi dire che se fa molto freddo e non avete l'equipaggiamento siete nei guai io quando faccio uscite in montagna d'inverno quando fa molto freddo magari sulla neve porto sempre una giacca in più nell'eventualità che mi succeda qualcosa e sia costretto a passare la notte fuori un piumino è l'ideale perché si comprime all'interno della sua sacca e pesa e ingombra pochissimo porto anche l'occorrente per accendere un fuoco di emergenza ma chi mi conosce sa che sono abbastanza scettico sulle possibilità reali di accendere un fuoco in una situazione critica una volta quando i materiali da campeggio non esistevano si adottavano soluzioni più spartane ma non per questo meno efficaci durante i conflitti mondiali ad esempio i soldati avevano in dotazione le coperte di lana la lana è un ottimo isolante anche se pesa molto disponendo di una coperta di lana e della possibilità di accendere un fuoco posso pensare di avvolgermela addosso avendo cura di coprire bene le estremità e di piazzarmi davanti al fuoco meglio ancora se ho alle spalle una superficie che sia in grado di riflettermi addosso il calore irraggiato dal fuoco se non ho proprio nulla a disposizione come equipaggiamento non mi resta che realizzare un rifugio di fortuna con i materiali che il bosco mi mette a disposizione avendo cura di imbottirlo bene con paglia frasche foglie secche quindi con del materiale che sia in grado di garantire un minimo di isolamento mi sono già occupato della costruzione di un rifugio di questo tipo in un video precedente ve lo lascio alla fine così se volete approfondire ve lo andate a guardare tenete conto che costruire un rifugio da zero con materiali naturali non è uno scherzo ci vogliono diverse ore di lavoro per realizzare un qualcosa che sia minimamente accettabile e dovete avere anche appresso gli attrezzi giusti ad ogni modo io non conosco nessuno che vada a dormire d'inverno nel bosco senza equipaggiamento quindi prima di farvi venire idee strane riflettete su quali sono le vostre reali capacità se siete dei neofiti fatevi prima qualche annetto con la cara vecchia tenda non abbiate fretta di forzare le tappe adottando tarp amache o altre soluzioni cool tanto sempre di campeggio si tratta bene ragazzi direi che è tutto per oggi mi fermo qui spero che queste mie riflessioni possano esservi d'aiuto e vi invito come al solito ad andare a documentarvi per conto vostro se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e non scordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime avventure seguitemi anche su facebook e su instagram se volete trovate tutti i link in descrizione voi come vi organizzate per dormire caldi l'inverno? fatemelo sapere nei commenti così magari buttiamo giù una bella lista di idee grazie per la visione state bene e ci vediamo ad un prossimo video